vedete? con lì sono io, miguel e tra poco mi arriverà una notizia che mi sconvolgerà non solo la giornata ma l'intera esistenza ma che cazzo stadi? con l'intera esistenza con l'intera esistenza con l'intera esistenza purtroppo era ricoverato in una zona di roma nord inaccessibile per me l'unica cosa da fare era andare dal compagno anche lui era un caro amico ma ci si poteva fidare di lui? per voi e per gli amici vedi mio caro miguel qui abbiamo una moneta da 10 centesimi questa moneta la metto qua dopodiché abbiamo una moneta da 20 centesimi che come è giusto che sia è più grande rispetto alla sua precedente e la metto al di sopra sempre dopodiché abbiamo sempre una moneta da 50 centesimi e anche questo è un'altra cosa che si poteva di l'altra esistenza Questa, come è giusto che sia, è più grande rispetto alla sua precedente E la metto qua Infine ne abbiamo una da un euro e quella da un euro però non è più grande rispetto a quella da 50 Io vado a farmi un tè Tu vuoi qualcosa? Un tè va benissimo, grazie Comunque mi fai impazzire da questa cosa sin da piccolo, non sei l'unico Ovvio che non sono l'unico Sai un'altra cosa? Cosa? Sai quanto spendono in Inghilterra per fare un penny? Quanto spendono? Un penny e mezzo Senti, ti volevo dire una cosa Un penny e mezzo mio caro amico, un penny e mezzo Sai benissimo, sono comunista e come la penso su queste cose Infatti io piace fare discorsi con te, però che volevi dirmi? Me l'ho scordato Ti dico io una cosa allora Dimmi È presente il punk? Mi stai chiedendo perché è finito all'ospedale? Ti stai a chiedere proprio questo Le facili hanno spaccato la testa Come gli hanno spaccato la testa? No, letteralmente stavano lui con quattro dei suoi a scrivere Allora incontravo dieci fasci Tutti armati C'avano i sprang Uno addirittura c'aveva il ferro Ma che cazzo stai a dire? Prendono il punk Lo tengono fermo C'è il pesante del cowboy Quello biondino alto, che? Bravo Allora gli danno una spranga E gli fanno meno il punk La violenza genera altra violenza Se manpoglia Mi succede Mi succede Se non La violenza genera Quattro L'reddo Quattro Con Di schien Chi Chabri Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Una storia così assurda era quasi improponibile Sarà pure un fascio, ma il francese per il principio non mentiva Mi stava un po' sulle valle per il suo atteggiamento Ma se volevo davvero sapere la verità, era l'unico modo Aho, apri me e sbrigate pure Oh ma quanto ti odio quando fai così io Così come? Ma perché non usare il citofono invece di chiamare? Oh non è che cazzo E invece il cazzo te lo chiamare così? Secondo te perché ci hanno messo il citofono in casa mia? Perché è una cosa importante Perché hanno messo il citofono in casa mia? Per poterti citofonare Eh per potermi citofonare, allora perché cazzo non citofoni? I telefonati è più semplice Sì ma se mi chiami io devo aprire il cellulare Te devo rispondere eh Se mi citofoni magari mi risparmio tu passaci Ma sta di tu orsi Eh sì cazzo guarda che chiamare d'egoista Te sei un egoista Perché? Chi non è in questo mondo? Eh senti che vuoi una birra? Secondo te sono il tipo da bere orzo e malto Sputato da un batterio? Eh vabbè vabbè che vuoi un te Sì va bene Senti ma perché sei venuto? Ho sentito che il punk è andato all'ospedale Ah vabbè quando stai con il secco è questo che succede Che senso scusa? Niente io ho sentito di che tipo sono andato a scrivere al deposito di Trani da Tor de Valle E quello ha preso la bottiglietta al contrario Si è spruzzato in un occhio e dovrebbe rimanere cieco da un occhio Boh lui non scriveva Poi non è mai stato bravo a disegnare Eh ma quando stai con Rossi i rossi li cambiano eh Che c'è contro i comunisti scusa? Mmm boh so tipo le iene di Tarantino ecco Che senso? Boh non c'hanno mai un soldo E poi Non lo so più li guardo e più mi sembra Che abbiamo qualcosa di sbagliato Però le iene è un attimo, figlio Sì ma è come quando un secco ne prende sette un compito Sette è un gran voto per carità eh Però da Tarantino mi aspetto solo capolavori Per me le iene non lo è Comunque è scena della mancia E poi c'è la scena dell'orecchio La prima, la prima è carina Ma perché c'è sta a Boucher? La seconda mi ha ancora fatto vedere Ma tu da qualcosa ti piace? Sì se fosse stato un altro guarda Mi sta indifferente Ma da uno che ha scritto Ezechiele25 di Asset Uno che ha scritto Pure a farti iniziare del Bastardi Senza Gloria Cioè per me avanti è abbastanza 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 E nulla stringo E tutto il mondo abbraccio Cioè per me avanti è abbastanza 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione